Largo Mola di Bari. Allora siamo qui a Largo Mola di Bari, oggi è 28 febbraio, c'è stata tutta la polemica ieri sulla paternità, su chi voglio dire si è mosso per far pulire questa area cantieri. In area cantieri firma ormai da quasi due anni per la nota vicenda del definanziamento operato dalla, possiamo anche dirlo, dall'ex presidente Polverini e che comunque deve ritrovare soddisfazione. Allora ieri appunto c'è stato questo attore, hanno tolto tutti i San Pietrini, qui c'è anche l'ex consigliere Paoletti che si è dato da fare su questa cosa e stamattina c'è stato il sopravluogo anche del servizio giardini, anche se in maniera informale. E' stato fatto notare che ieri facendo i lavori sono stati fatti in maniera grossolana e anche pericolosa, perché qui vedete ci sono le radici tagliate e appunto adesso non si sa se voglio dire sono radici primarie, radici capillarie e urge, urge, perché anche guardate l'inclinazione dell'albero che è di circa 8 gradi, centinaia di tonnellate che si riesce a che cadono. Qui va rimessa della terra, insomma serve un sopravluogo e una relazione tecnica. vediamo se qualcuno di quelli che si sono presi la paternità dell'operazione si presenta e magari sa dove sta a largo Mola di Bari perché ho visto il comunicato e credo che sono in molti a non sapere neanche dove sta a largo Mola di Bari. 28 febbraio, passo e chiudo. Grazie. Grazie.